Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi continuo il racconto della nostra adozione. Visto che l'ultimo video che ho pubblicato, l'incontro spiacevole con la psicologa che ci ha seguiti all'inizio del nostro percorso, vi è piaciuto tanto o meglio vi ha coinvolti tanto, mi avete lasciato tantissimi commenti, un sacco di sostegno, ho deciso che fosse giunto il momento anche di andare avanti e raccontarvi come abbiamo superato quel momento tanto difficile. Se ve lo siete perso ovviamente vi lascio il video qui e nell'info box. Prima di iniziare con il racconto vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E se non lo fate già di seguirmi su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! Riprendo esattamente dal punto nel quale avevo lasciato il racconto. Siamo il 23 dicembre e abbiamo appena ricevuto io e mio marito una delle notizie più brutte della nostra vita, ovvero il fatto di non essere stati giudicati idonei dall'adozione da parte del Tribunale dei Minori di Firenze. Potevamo fare ricorso e chiedere che la nostra situazione venisse rivalutata, ma in realtà ci hanno detto che alcuni stati del mondo per l'adozione internazionale non ammettono l'idoneità presa tramite un ricorso, ma soltanto quella avuta con un percorso normale. Per questo abbiamo deciso di iniziare nuovamente il percorso dall'inizio. Questo cosa significa? Significa ristampare tutti quei fogli che abbiamo dovuto compilare la prima volta, fare le analisi mediche, fissare una nuova udienza, avere nuovi colloqui con assistente sociale e psicologa, per avere delle nuove relazioni. Insomma, tutto quello che avevamo fatto fino a quel punto era andato perso. In quel periodo, nel momento in cui ci siamo rimessi in moto per ricominciare, ci sono stati dei piccolissimi eventi che però mi hanno buttata tanto giù di morale. Un'analisi medica che ha richiesto un esame un po' più specifico e quindi mi sembrava di perdere ulteriore tempo. Una frase un po' maleducata da parte di una dipendente della cancelleria del tribunale. Addirittura un inizio spiacevole con la nuova psicologa che ci avrebbe seguito, perché a noi non ne è bastata una psicologa problematica, ma ne abbiamo avute addirittura due. Ma questo ovviamente farà parte di un altro video che uscirà in futuro. Però insomma, sono successe delle piccole cose, dei piccolissimi intoppi che io, già provata per la situazione, per quello che era successo, sentivo di non riuscire più ad andare avanti. Ho cominciato quindi a pensare che l'universo ci stesse parlando e che ci stesse dicendo che quello non era il percorso per noi, che noi non avremmo mai potuto adottare e tutto, in realtà tutto quello che mi succedeva, era la prova che io non dovevo andare avanti, che tutto era inutile. Quindi mi sono, diciamo, demoralizzata molto e questa cosa ha fatto anche soffrire tanto i miei genitori, perché ricordo di essere stata molto scontrosa con loro, perché ogni volta che cercavano di sostenermi, io rispondevo tanto è tutto inutile. Sono successe due cose particolari che mi hanno portata poi a fare un passo diverso, totalmente inaspettato. La prima è stato il fatto che quel 23 dicembre, appena ricevuta la notizia, io mi trovavo in negozio, nella mia cartolibreria che avevo qualche anno fa. Quel pomeriggio venne in negozio a trovarmi una mia amica, Anna, che saluto se dovesse guardare questo video, e mi trovò appunto praticamente in lacrime e le raccontai quello che era successo. E lei, ricordo, insomma fu molto comprensiva, addirittura anche a lei venne da piangere, perché proprio vedeva la mia disperazione e cercò, insomma, un po' di tirarmi su di morale. Qualche tempo dopo io ho fatto un sogno nel quale rivivevo praticamente questa scena, però questa mia amica, una volta entrata in negozio e aver ascoltato la mia storia, mi diceva, mi dispiace molto, so che hai avuto un aborto, mi dispiace, so che stai soffrendo qualcosa del genere. Quindi io ricordo, insomma, di aver fatto questo sogno un po' particolare, in cui associavo quello che mi era successo ad un aborto. Mi sono trovata poi un giorno, appunto, ero seduta al tavolo del salotto dei miei, a compilare questi fogli, arrabbiata, demoralizzata, non ne potevo più, e la mia mamma mi ha detto, forse è il caso che tu vada a parlare con qualcuno. La mia famiglia conosce una psicologa privata, quindi non della ASL, che è, insomma, rinomata per essere una donna veramente molto capace nel suo lavoro. La mia mamma aveva il numero di telefono e mi propose di chiamarla per andare a parlare un po' con lei, per vedere se riuscivo ad uscire un po' da questa situazione mentale che mi si era creata. Ovviamente io non credevo di averne bisogno, ero contraria, però la mia mamma, insomma, prese l'iniziativa e telefonò. Raccontando a questa psicologa la nostra, la storia, insomma, quello che era successo, la psicologa al telefono le disse, Martina ha vissuto questa cosa come un aborto e non ha ancora elaborato il lutto. Ora, io ci tengo a dire qui che non voglio assolutamente paragonare quello che ci è successo ad un aborto vero e proprio, perché io non so immaginare che cosa possa voler dire per una donna e anche per un uomo in realtà affrontare una cosa del genere, una perdita del genere. Fatto sta comunque che la psicologa capì subito quello che io provavo e mi venne immediatamente, mi tornò in mente subito anche il sogno che avevo fatto. Io mi ero fatta delle fantasie, avevo iniziato a fantasticare sul giorno in cui avrei detto ai miei genitori di aver ricevuto l'idoneità, sul giorno in cui avremmo ricevuto la telefonata che ci abbinava ad un bambino o ad una bambina. Insomma, io avevo iniziato a vedere un futuro relativo per l'appunto all'adozione e quando ci è stato detto che non avevamo avuto l'idoneità, era come se questo sogno mi fosse stato strappato da dentro e mi avesse lasciata lì vuota. Ecco quindi che lì ho capito che forse quella psicologa davvero sapeva quello che stava dicendo e ho cominciato ad andare da lei. Lei mi ha seguita per diverse settimane, anche per il periodo in cui facevamo i colloqui con la psicologa dell'ASL per la nuova adozione, per il nuovo percorso adottivo. È stata veramente una manna dal cielo. Ci tengo a sottolineare anche questa fase che io ho passato perché non volevo che passasse il messaggio con l'altro video e ho visto però che tutti voi in realtà avete capito, però ci tengo a ribadirlo. Non tutti gli psicologi non sanno quello che fanno, anzi bisogna soltanto trovare la persona giusta che sappia capirti, che sappia entrarti dentro e consigliarti perché ci sono delle situazioni in cui anche chi ti ama di più come mio marito, come la mia famiglia, non può in realtà essere d'aiuto. Non è una cosa che fanno apposta però è così. A volte non si riesce a trovare l'aiuto neppure nelle persone che ci vogliono più bene e c'è bisogno di qualcuno che magari abbia anche studiato quello che stiamo provando. In questo caso per l'appunto la psicologa è stata con me bravissima, mi faceva fare un sacco di esercizi pratici. Io ne ricordo due che mi hanno aiutata tantissimo. Il primo era quello di dedicare una parte delle mie giornate a pensare per dieci minuti esclusivamente a tutto quello che mi rattristava, che mi faceva stare male. Poi però, passati dieci minuti, io dovevo chiudere quel tipo di pensiero e non riprenderlo più per tutto il resto della giornata. Come se avessi un barattolo e una volta chiuso non dovevo più riaprirlo. E questo mi ha permesso in realtà di godermi le giornate senza il pensiero fisso di quello che c'era successo. Un altro esercizio molto utile è stato quello di scrivere ogni mattina tutte le cose che secondo me durante la giornata sarebbero andate storte. Perché io vivevo un momento in cui ero convinta che tutto quello che facevo, tutto quello nel quale mi impegnavo, in realtà alla fine non avrebbe funzionato e sarebbe andato a finire nel nulla. Ero convinta di essere completamente incapace di portare a termine qualsiasi cosa. Quindi questo esercizio in realtà mi ha aiutata perché la sera dovevo scorrere di nuovo quella lista e segnare le cose che effettivamente si erano realizzate. E io non solo mi accorgevo che molte di queste realtà non erano diventate realtà, quindi non era vero che tutto andava male. Ma durante la giornata mi ritrovavo a pensare, mica voglio dar ragione a quella lista. No, farò in modo che queste cose vadano bene. Quindi è cambiato proprio il mio modo di pensare. Insomma, questo per dirvi che grazie a questa psicologa siamo riusciti a portare avanti il percorso adottivo, il secondo percorso adottivo. Una delle ultime volte in cui ho visto questa psicologa mi ha detto una frase che mi porterò nel cuore per sempre. Mi disse, quando incontrerai tuo figlio o tua figlia potrai dirgli pensa a quanti ostacoli ho superato, quante battaglie ho affrontato e vinto pur di arrivare a te. Ed è con questo spirito che poi ho affrontato tutto il percorso futuro, tutto quello che è venuto dopo. Insomma, concludo questo racconto dicendovi che abbiamo avuto l'udienza ad ottobre di quell'anno e tre settimane dopo siamo stati contattati dal tribunale perché avevamo ricevuto l'idoneità all'adozione. Bene ragazzi, questo racconto finisce qui e niente, vi rimando ovviamente al prossimo video per parlare di come è andato avanti il percorso che ci ha portato a Katia. Grazie e alla prossima. Ciao! Grazie a tutti!